Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale Oggi ragazzi come potete ben vedere siamo di nuovo qua su Farming Simulator 19 Ovviamente nella nostra bellissima mappa ischia farm Allora, ci siamo lasciati la scorsa volta con la trebbiatura di tutta la vena se non ricordo male Stavamo raccogliendo la paglia, abbiamo sistemato i cavalli per quanto riguarda il cibo, l'acqua e tutto quello che è Per la loro vita diciamo Ora qua sto andando praticamente a svuotare questo carro che era rimasto in campo Oggi cosa facciamo? Dobbiamo sicuramente venderci tutti quei pallet di cipolle e questi pallet qui di lana Così ci ricaviamo un pochettino sperando che il prezzo sia perlomeno decente direi Allora scarichiamo un attimo sto robo qua Ok intanto guardiamo un attimino i prezzi qui Allora più che altro della lana sono curioso Eh no ancora in discesa il prezzo della lana è ancora in discesa Se io adesso mando leggermente avanti tanto non dovremmo avere nessun problema Ok raga ho mandato praticamente un giorno avanti veloce e si è settato a 788 per il momento questo è il prezzo più alto che ho visto qua Quindi direi che possiamo tranquillamente andare a vendere tutta sta roba I cavalli sono fortunatamente ancora in ordine comprese anche le pecore E qua stoppiamo tutto perché mi vado a vendere subito subito sti pallet qui di lana Allora ovviamente credo bisogna andare a vendere a filanda anzi ne sono quasi sicuro Ovviamente infatti era a filanda Allora dov'è qua ce l'abbiamo noi Uh non ho settato la filanda E quindi dove si troverebbe Ah ok la filanda è qua Ok Allora io vado tranquillamente a Campo uva questo qua Ok vai Ci vediamo quando siamo Oh lì è già pronta Delle altre pallet sono già pronti qua eh Qua sono tutti Ah no questo è il 100% Ok ce lo prendiamo subito Devo dire raga che non è molto realistico il fatto che io prenda con le mani i vari pallet Quindi credo che oggi compreremo un qualcosa che ci aiuterà per quanto riguarda eh prendere oggetti specialmente pallet Dovrei prendere sinceramente o un caricatore frontale o un qualcosa del genere Però sinceramente non concentriamoci ora su queste cose che fondamentalmente sono abbastanza inutili Perché voglio prendere questo trattore qua Ok Ora che va a casa Perché voglio iniziare la semina di una cosa che non abbiamo mai trattato Anzi che non ho mai trattato Qua sul mio canale E sto parlando di una coltura che in realtà ho visto fare a pochissimi E questa coltura sarebbe niente di meno che le canne da zucchero E so che è poco il prezzo So che ci guadagneremo praticamente nulla in realtà Però dato che non abbiamo mai trattato questa coltura vorrei trattarla Allora io voglio fare sia sul sei quattro tre e in realtà vorrei fare anche il cinque Poi vi spiego anche il motivo Voglio fare tutti questi campi tutti coltivati nella maniera classica Allora dobbiamo spandere sicuramente la calce viva Non dobbiamo arare da nessuna parte quindi questa è una cosa molto buona Ok solo la calce viva nel campo tre e quattro Quindi andiamo a spandere la calce Allora iniziamo a comprare innanzitutto il coltivatore che tanto ci servirà Quindi lo compro Allora più che un coltivatore credo che prenderò un erpice a dischi Giusto che tanto mi dia la texture del coltivato Lo compro Questo ha bisogno di solamente 140 cavalli Noi il nostro samene a 166 E ha la bellezza di 5 metri di lavoro Quindi molto molto utile Quindi devo portare in realtà questo Poi prendiamo questo qua Gli mettiamo direi le ruote Almeno almeno standard Oh è tornata la vecchia gloria sto piccolo trattorino Allora prendiamo il nostro bellissimo sipba Che questo non ci tradisce mai in realtà Ok ricarichiamo di calce viva Perfetto siamo belli carichi di calce Andiamo a passare la calce nel nostro bellissimo campo La paglia direi che la lascio Tanto non me ne frega niente L'importante è che ce la raccogliamo nel campo 6 Poi in realtà di questo campo Non mi importa perché tanto ne abbiamo già A sufficienza di paglia In realtà raga non so se è una cultura Piantata In Italia Non credo in realtà Credo sia una Una pianta Curata Coltivata diciamo in altri paesi Però penso che alcune zone Probabilmente magari in Italia Ce la possono anche avere Non so se effettivamente è troppo realistico Per questa Farm O comunque per questa serie Però volevo assolutamente provarlo Ed essendo che questi campi sono tutti pianeggianti E non in collina come la nostra bellissima mappa Stappenberg ho pensato che forse era più gradevole vederla in questa mappa Ok rieccoci di nuovo in campo Si parte col secondo round Poi tutta questa fascia qua di erba Adesso che l'altro trattore è arrivato tanto Credo sia già arrivato Anche se in realtà non mi è arrivato il messaggio Quindi probabilmente sia anche bloccato E vado poi a vedere E ci togliamo tutta questa striscia di campo qua Di erba qui E facciamo un grosso campo unico Così almeno siamo Più tranquilli tanto Questa strisciolina di campo Non la uso praticamente mai Voglio comprare poi un campo leggermente più grosso Per i nostri cavalli Comunque per il campo a erba Dedicare il campo a erba Una fascia un po' più grossa Quindi è inutile tenermi sto pezzettino così Ok non mi segnava che era arrivato Perché c'era il trattoretto qui davanti Il No mamma che non mi ricordo Rimorchio delle balle davanti E quindi non mi segnava che in realtà Era arrivato Allora questo è il nostro Nuovo erpice a dischi Che ci servirà ovviamente per la coltivazione Dei nostri campi Quando non è prevista L'aratura Comunque per le lavorazioni che facciamo noi L'arieggiatura Allora nel frattempo qui Dobbiamo poi rimetterlo al lavoro Che ha finito Il La calce Qui non ci interessa Questo qua mi interessa Eccolo qua E' arrivato Quindi io mi vado a vendere Prima che se no Finisca Il Il prezzo Ok Ancora 788 Perfetto Poi qua dovremo venire di nuovo A Raccogliere tutta l'uva Penso che poi nel prossimo episodio Ce lo facciamo Perché se no Rischiamo che andiamo a perdere Il raccolto Eccolo qua Eccolo qua 4000 Ma può starci Non lo so sinceramente Però Per un ciccinino di erba Che gli ho dato Riportiamolo Direi a farm Perché ha altri pallet Da caricare Ok abbiamo 20.000 16.000 litri Di paglia Praticamente Quindi La La lascio in campo Tutta la paglia Così almeno qua Possiamo già iniziare A coltivare Il campo 6 Non ci voglio tanto Né di raccoglierla Sinceramente Poi effettivamente Non mi serve Avere tutti i stili 3 di paglia Perché tanto Per quel poco Che la usiamo noi Non Non ci frega niente Diciamo Allora Dispieghiamo qua L'attrezzo 5 metri sono Devo dire che sono Una larghezza Abbastanza Buona Direi Ok raga Calce viva data Questo lo mando Di nuovo in farm Lo mando anche Tranquillamente Da solo Che tanto Ok nel frattempo Che quello lì va Io voglio Modificarmi Un attimino Raga Fare una striscia In più Qui Perché sincero No No raga Ho sbagliato Mannaggia A me Ho sbagliato Ho toccato Troppo Lo sapevo Ho fatto danni Allora Cerchiamo di riparare Ok Spero di aver sistemato Un pochettino Qua ho messo Un po' di Arbusti Un po' di Cespuglietti Giusto da far capire Che è la divisione Del campo Devo mettercene Ancora Un Paio Qui Ok Boh Dovremmo Dovremmo Esserci raga Prendiamo Il Oh 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 Questo che sta Facendo Perché Ti sei fermato Vai Tesoro Mio Vai Verso Il tuo Bellissimo Destino Eccolo qua Questo qui Prendiamo L'arieggiatore Ma ce l'abbiamo Un arieggiatore Effettivamente Io non ricordo Di avere Un arieggiatore Infarme Forse qua Forse ho capito Forse qua Però adesso C'ho sto Coso davanti Eccolo Infatti Vabbè Lo prendo Così Perché c'ho Sto Robo Davanti E non C'ho Voglia Sennò Di Rompermi Le schedoline Va bene Vado Un attimino A fare Le varie Sezioni In modo Un po' Più Preciso Con L'arieggiatore Per creare Il campo Al campo 5 Perché avete visto Che ho tolto Un pezzetto Di campo Per sbaglio Quindi Creo un attimo Quel pezzetto Di campo E poi Metto a lavorarci Tranquillamente L'operaio Che tanto Non me frega Niente A me Di quello Che fanno Qui Ok Perfetto In più Devo fare Anche Ste due Parti Qui Cioè Questa Parte Qua Che si Collega Lì E una Faticaccia Fidatevi Di me Ok Dai Più o Meno Su Tanto Come è venuto È venuto Più o Meno Dai Abbiamo fatto Leggermente Stortino Effettivamente Però Chi se ne Frega Per il Per il Resto Facciamo Fare Ovvio Ah no Anche questo Pezzo qua Dobbiamo Fare Sì Stavo Dicendo Facciamo Fare Tutto All'operaio Tanto L'operaio Le spalle Larghe No Allora Qui Così Sempre Permetti Creazione Campi Abbassa E questa Parte me la Devo ovviamente Fare però Tutta io Perché Sto Praticamente Creando Due Nuovi Campi Un nuovo Campo Ok Siamo arrivati Al fondo Del campo Basta 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 Non andiamo Oltre Ok Per essere Sicuro Voglio Fare Praticamente Anche Questo Lato Qua E poi Andando Dritti Per di Qua Vado Tutto Lungo Questa Striscia Perché Qualche Pezzettino Devo Dire Da Questo Lato Di Qua L'ho Lasciato Ok Anche Di Qua Eccoci A Fondo Campo Perfetto Non vorrei Andare Oltre Anche Se Nel momento Il New Holland Non ci serve Più Ci Finiamo Noi Questo Pezzettino E poi Direi Che Finalmente Possiamo Iniziare Ad Affittarci I Nostri Macchinari E Iniziare Veramente Con La Semina Delle Canne Da Zucchero Sono Proprio Curioso Di Vedere Com'è Questa Semina Famosissima Semina Allora Questo Campo L'abbiamo Completato Perché L'ha Intestata Laggiù Siamo A Posto Lo Metto Qua Però Ovviamente Non mi fa Lavorare Vai Te la senti Di lavorare Da qui Penso Proprio Di sì Dai Ok Ecco Qua Finalmente Il nostro Campo Ora Inizia A intravedere La grandezza Che avrà Guardate Molto Grosso Diventa Più Il nostro Campo 6 Insomma Abbiamo Due Bei Camponi Devo Dire Non Enormi Ma Nella Nella Media Direi Dai Allora Rimango Su questo Trattore Però Me ne Vado Nel Menu Qua Del Negozio Prendo Ovviamente Questa Qua Da 85.000 Euro Che Però Noleggiata È Solamente 4.335 Euro Poi Prendiamo Ovviamente Il nostro Trattore Immancabile John Deere 8R Da 290 Cavalli Va Benissimo Perché Tanto Abbiamo Bisogno Sedolamenti Di 200 Cavalli Ne Abbiamo 90 In Più Ma Poi Siamo Addirittura Tutto In Piano Quindi Dovrebbe Tirarselo Come Niente Poi Al muso Bello Grosso Non Credo Serva Neanche Il Peso Comunque Io Non Glielo Non Glielo Affitto Se Dovessimo Avere Bisogno Al Negozio Lo Noto Lo Noleggiamo 15.000 Euro Di Trattore Neanche Tanto Devo Dire Cosa Abbiamo Bisogno Ancora Beh Ovviamente Dei Pallet Di Penso Di Canne Da Zucchero Ovviamente Eccole Qua Non So Quanto 2000 Litri Non So Quanta Ce Ne Vada Io Aspettate Prima Di Fare Cavolate E Qua Siamo Già A 10.000 Abbiamo Leggermente Superato Però Va Bene Basta Non Credo Abbiamo Bisogno Di Come Il Trattore Io Spero Sia Traino Che Non È Che Si Alza Spero Che Vada Semplicemente Trainata Questa Roba Qua Beh Sì Penso Proprio Di Sì 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 Infatti Dietro La Parte Dietro È Traino Ok Dicevo È Abbastanza Complicato Se No Questa È La Texture Che Hanno Dato Alla Seminatrice Guardate Che Un Po Già Sono Sopra Al Al Nastro Fighissimo Sono Proprio Radici Già Che Vengono Piantate Sono Un Po Come Le Patate Credo Un Po Come La Piantagione Delle La Semina Delle Patate La Piantagione La Semina Delle Patate Ok Adesso Con Il Nostro Bellissimo John Deer Ci Andiamo A Caricare Di Fertilizzante Perché Ovviamente Nel Frattempo Voglio Anche Fertilizzare Almeno Una Curioso Sono Veramente Curioso Ok In Qualche Modo Sono Riuscito A Prendere Il Trigger Del Fertilizzante Non Me Lo Prendevo Sono Stato Qua Dieci Minuti Vabbè Ok Ce l'abbiamo Fatta Perlomeno Allora Qua Chiudiamo La Copertura Tanto Non Ci Serve Più Ci Buttiamo Subito Subito Qua Nel Fosso Per Il Campo 6 Ok Qua Belli Così Ok Vediamo Un pochettino Come funziona Il Tutto Io mi Posiziono Qua Faccio Ovviamente Abbassa E ovviamente Si Abbassa C'è da Dispiegare Si c'è da Dispiegare Perché Se no Penso Che Non Funzioni E Accendi Lavorare Mi Sembra Che Lavori Tutto Sumato Bene La Texture È Quella Delle Patate La Prima Semina Della Delle Canne Da Zucchero Prima Semina Nella Mia Vita Mai Seminato Canne Da Zucchero La Semina Vabbè Tutto Sommato È Simile A Tutte Le Metto L'Operaio Di Nuovo A Tra Poco Ok Dai Raga Raga Un Pezzettino Ce Lo Siamo Fatti Direi Quindi Direi Che Per Il Momento Ci Possiamo Fermare Qua Ovviamente Vi Ricordo I Link Utili Che Stanno In Descrizione Compreso Link Delle Donazioni Se Volete Fare Un Piccolo Supportino Al Canale E Compresi Link Dei Canali Con Qui Collaboro In Più Vi Ricordo Di Iscrivervi Al Canale Se Non L'avete Già Fatto Di Lasciare Un Bel Like Di Commentare Fatemi Sapere Cosa Ne Pensate Della Puntata Mi Raccomando Perché Per me È Molto Importante Sapere Cosa Ne Pensate Avere Un Vostro Feedback E Niente Raga Vi Ricordo Anche Di Condividere Il La Coltivazione Qui Dei Nostri Campi Vi Mando Un Grosso Saluto E Noi Ovviamente Ci Vediamo Al Prossimo Video Ciao A Tutti